La torcia di Eni Versalis a Brindisi si è riaccesa nella mattinata di domenica 9 ottobre, come vediamo da queste immagini. Il motivo dell'ennesima sfiammata, stando a quanto riferito dall'azienda al comune di Brindisi, sarebbe stato uno sbalzo di tensione. E la torcia di sicurezza, come avviene in questi casi, brucia l'eventuale prodotto di lavorazione in eccesso in candela, dando origine alla sfiammata. La Versalis, come da prassi, ha comunicato al sindaco Rossi l'accaduto. Il primo cittadino, invece, ha avvisato ARPA affinché vengano effettuate le rilevazioni sul posto relative alle emissioni in atmosfera. Ed in queste ore l'Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell'ambiente sarebbe effettuando rilievi per poi comunicare i dati al primo cittadino. Secondo quanto riferito dalla Versalis, la sfiammata sarebbe comunque stata di breve durata. Negli ultimi anni, sulla sfiammata della torcia del petrolchimico, si è provato a fare chiarezza anche con qualche braccio di ferro tra amministrazione comunale e azienda, soprattutto sulla quantità di emissioni in atmosfera di CO2.